benvenuti al nuovissimo famo il piano se no parto a cannone fabrizio lascetti ma cosa ti prendi cosa c'hai oggi? guarda una cosa veramente indescrivibile allora amici non staccatevi da lì guardate la trasmissione e scrivete i vostri commentini proprio ecco così immediatamente allora amici questo è il nostro sommario e mi raccomando seguiteci scriveteci messaggi anche a me sono partito quando ti mettevo di dai tu hai bevuto troppo credo che siete ostia quindi sono una cozza stiamo esagerando a me mi ammazzano è tutto quello che è un inizio anche un finizio benvenuti a proposito ma poi con questo break estivo alla fine con tutti i stessi spasimanti hai guagliato? sì ma mi sono lasciata quando? in quei giorni lì non ho detto no no però ragazzi ti parla ti parla ti parla ma allora alla fine proprio con questa pausa estiva hai trovato l'anima sì tante dediche la dedica più bella vincerà un premio ma basta con questa scusa devi sempre trascutare un buon partito ma è partito il ponte allora siamo qui Fabrizio Fabrizio ciao nice to meet you affacciate se no si profondi sì 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 mi trovi così insomma ci si rincontra dopo una notte passata a due ponti che c'era fai un attimo se ho scordato che c'era che c'era un'altra scorsa tennis tennis vintage stavo per dire la notte passata deve incontrarti meglio no pensate a S2 che pensate devo rispondere brutz no no ok fanni mu capisce brutz navra astramat smrevera st 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 you like this legno legno racchette what? cioè say this this a racchette di legno no? come stai in english? eh cioè tu giochi a tennis yes oh più gioiosa eh benvenuti un po' più gioiosa bué bué comunque vabbè questo no ma che premiazione siamo qua a fare un servizio come premiazione poi di chi è premiazione? poi questo neanche tu l'ho scritto Oscar infatti l'ho scritto ti voglio tanto e poi tu parti come ti chiami? Martina come mia nipote che si chiama Francesca mi chiami? è lei pure te poi si chiama la marca cioè sei ecco come hai Grazie.